Siamo nella zona dei templi di Bangkok. Questo complesso templare risale al 1760. Particolari di alcune statue. Oggetti deposti alla base dell'altare. In questo supporto mettiamo delle candele che servono ai fedeli per esprimere i loro desideri. Ai lati dell'altare questi vasi di pregevole fatture. Un ingresso particolarmente ricco di decorazioni. Buddha sdraiato. I piedi. La statua è lunga 46 metri. E' alta 15. Questo hotel conta 27 piani. Il Bangkok River visto dal 27esimo piano dell'albergo. La riva a destra del fiume. La riva a destra del fiume. La riva a sinistra. Il centro di Bangkok. La metropoli conta 10 milioni di abitanti. Si estende su un territorio di 1500 chilometri quadrati. Si apprestiamo a prendere il battello sul Bangkok River per andare al Palazzo Reale. La riva a destra del fiume. La riva a destra del fiume. La riva a destra del fiume. A presto. Pappagallo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.